Questa cos'è? La vita di guarigione. La vita di prima? Sì. Non buttatela, costa 20 euro questa, non buttatela. Dove l'ha trovata questa? Dipende. Dal ferramenta. Dal ferramenta. Dal ferramenta. No, fazzoletto è quello. Ok, questi denti provvisori. Che è successo? Ha strappato. Ha strappato. Vedi com'è la frattura a becco di flauto? Dici, si sono rotti da soli? No, questo è becco di flauto, è strappo questo. La fine si rompe, ma prima l'hai crinato. Ma prima l'hai crinato? No, no, quello è stato proprio i primi metri. Ci possono... Di notte? 9 su 10, quando si rompono i denti? Di notte. 9 su 10, se rompono i denti. Perché non controlliamo? Non puoi... Spasmi muscolari. E basta. Spasmi muscolari sono quelli. 9 su 10, sempre di notte, non stavano mangiando nulla, si rompe. labels sono guardia da un sacco. E non piacacette roco? Potendo avuto mangiare la lunga, si romping puntos Ну, se rompe metri andare. Si rompe che la puoi metri. Un sacco Oftentimes è un sacco famoso per zero.